Furto in un appartamento di Via Signorino nel centro storico di Caltanissetta. I malviventi sono entrati in casa di una donna anziana che da alcuni giorni era stata ricoverata in ospedale, che a causa di alcune complicazioni era deceduta. I vicini, vedendo la porta della signora aperta, hanno avvertito la polizia. I malviventi hanno portato con sé il televisore e alcuni piccoli elettrodomestici e sicuramente, sapendo del ricovero della signora, hanno potuto agire indisturbati. Grazie a tutti.